ciao a tutti oggi prepareremo la pasta al forno con zucchine speck il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono per la besciamella latte farina burro sale e noce moscata per la pasta rigatoni speck a listarelle scamorza zucchine tagliate a rondelle aglio olio parmigiano sale e pepe diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta preparando la besciamella mettere nel boccale il burro ed azionare i bimbi per tre minuti 100 gradi velocità 1 aggiungere il latte la farina il sale e la noce moscata ed azionare i bimbi per otto minuti 100 gradi velocità 4 la besciamella è pronta a mettere da parte senza lavare il boccale mettere l'aglio l'olio l'olio ed azionare il bimbi per tre minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'olio dal boccale mettere le zucchine pepe e il sale ed azionare il bimbi per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità soft nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente versare le zucchine sulla pasta amalgamare bene aggiungere 800 grammi di besciamella ed amalgamare bene in una pirofila da forno mettere sul fondo un po di besciamella livellare bene mettere la pasta mettere lo speck la scamorza dagli adaffette parmigiano aggiungere il resto della pasta mettere lo speck la besciamella e il parmigiano cuocere in forno per riscaldata a 200 gradi per 30 minuti circa la pasta è cotta lasciare intiepidire prima di servire pasta al forno con zucchine speck grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti